Enrica Sabatini, dimissioni subito, Pescara tradita, il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del sindaco Alessandrini. Siamo di fronte a un fatto gravissimo, il sindaco che ammette di aver falsificato un'ordinanza retrodatandola. Un fatto grave che si lega a tutte le volte in cui il sindaco non ha avuto la possibilità e non ha detto la verità. In consiglio comunale quando gliel'abbiamo chiesto, in commissione straordinaria, in commissione controlli di vigilanza in regione, in comune in tutte le interviste, ogni volta che gli è stato chiesto dai cittadini e scopriamo oggi la verità. Una verità di fronte alla quale anche i consiglieri comunali della sua maggioranza non possono più far finta di nulla. Per questo abbiamo inviato, invieremo una mozione di sfiducia nuovamente ai consiglieri di maggioranza. Ci serve una sola firma per portarlo in consiglio comunale e sfiduciare questo sindaco, che non ha più la credibilità, la fiducia e neanche il diritto di stare a governare una città che chiede invece tutt'altro. Enrica Sabatini è pronta a candidarsi al sindaco di Pescara? Sì, sarà la decisione, aspetta gli attivisti che decideranno se sarò io il candidato sindaco. Io sono pronta, come loro prima, oggi ancora di più. Abbiamo acquisito esperienze, competenze, capacità. C'è una squadra, c'è una squadra di persone pulite, oneste, che vogliono cambiare questa città e lo vogliono fare in meglio. Lei ha parlato di questa firma che mancherebbe per la sfiducia al sindaco, ma secondo voi ci sono realmente le possibilità che questa tredicesima firma possa arrivare? Oggi il sistema PD secondo me sta scherchiolando, tutte le liste anche interne o gli altri rappresentanti del PD iniziano a capire la verità dei fatti e spero e faccio un appello a loro a questi 20 consiglieri che ce ne sia almeno uno che con senso di responsabilità e anche rispetto verso i propri elettori faccia un gesto che oggi è dovuto e necessario.